Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sialo dato Gesù Cristo. Maria Sede della Sapienza prega per noi. Continua la storia sacra. Episodio ottavo. Alleanza di Dio con il suo popolo, il tabernacolo e l'arca santa. L'alleanza di Dio con il suo popolo Dopo circa tre mesi di viaggio, gli ebrei giunsero ai piedi del monte Sinai. Là il Signore strinse un patto coi figli di Israele. Voi avete visto come vi ho salvati con mano potente dalla schiavitù egiziana e vi ho condotti a me. Ora, se voi ascolterete la mia voce, sarete mia speciale proprietà fra tutti i popoli. Essi risposero con voce concorde. Tutto quello che il Signore desidera, noi lo faremo. Il Signore li invitò a prepararsi, poiché il terzo giorno avrebbe loro consegnato la sua santa legge. Giunse il terzo giorno. Splendeva il mattino, quando cominciarono a rombare tuoni, sfolgoreggiare lampi, suonare le trombe. Il monte era avvolto dal fumo e tremava come scosso dal terremoto. Il popolo era terrorizzato. Solo Mosè salì sul monte. In mezzo quel tumulto sudì la voce potente di Dio che proclamava i Suoi comandamenti. Mosè si fermò sul monte quaranta giorni. Il Signore lo istruì minutamente e gli consegnò due tavole di pietra. Su una erano scolpiti i primi tre comandamenti, sulla seconda gli altri sette. Quando Mosè scese dal monte, trovò gli ebrei che, dimenticato il vero Dio, adoravano un vitello d'oro. Acceso di sdegno, Mosè scagliò le tavole contro la roccia, perché non erano degni di ricevere il dono di Dio. Frantumò quindi l'idolo e punisse veramente i colpevoli. salì poi una seconda volta sul monte e ricevette da Dio altre due tavole simili alle prime. Beato l'uomo che cammina secondo i comandamenti del Signore. Il tabernacolo e l'arca santa Durante il viaggio nel deserto, gli ebrei non avevano né case né tempio. Abitavano sotto le tende e pregavano ovunque si trovassero. Il Signore ordinò a Mosè di innalzare anche per lui una tenda dove egli avrebbe posto la sua dimora. Quella tenda fu detta tabernacolo. Nel centro del tabernacolo si custodiva l'arca santa, piccola urna di legno prezioso, rivestita d'oro e sormontata da due cherubini. Nell'arca si conservavano le due tavole della legge, i libri sacri, scritti per ispirazione di Dio, e un vaso pieno di manna. Essa era il segno dell'alleanza stretta da Dio e il suo popolo. Di là egli si manifestava a Mosè e al sommo sacerdote. Durante il viaggio l'arca doveva essere portata a spalla dai sacerdoti. Nessun altro poteva toccarla. Il giorno solenne della consacrazione il Signore si mostrò e il Signore mostrò quanto avesse gradito quell'opera del suo popolo facendo scendere la sua nuvola sul tabernacolo e riempiendolo e riempiendolo della sua gloria. Gli ebrei erano ormai giunti ai confini della terra promessa. Essi avrebbero potuto impossessarsene con facilità. Ma il Dio non volle perché, nonostante i suoi continui prodigi, gli ebrei troppo spesso diffidavano di lui e si ribellavano contro Mosè.